Non si riesce a capire cosa sta succedendo, anche perché sono passati da 78 su 80 a 77 su 80 per poi tornare nuovamente, cioè è stato fatto un passo indietro durante lo spoglio e sì certo che sento che mancano ormai solo due sezioni Siamo premiti a più di due ore E dal tono con cui mi hai sforzo rispetto a effettivamente problemi con forse due sezioni Così lunedì mattina, giorno dello spoglio delle schede elettorali nei corridoi del comune di Bolzano Quella che avete sentito è la voce, che abbiamo camuffato per non rendere riconoscibile di una delle addette del municipio e chi si stava occupando dello spoglio Erano da poco passate le nove del mattino, il sito internet del comune da cui noi costantemente recuperavamo gli aggiornamenti dello spoglio elettorale risultava bloccato da diverso tempo Nessun aggiornamento da quasi oltre due ore Poco dopo le sette poi un'altra anomalia Di colpo le sezioni che si trovavano ferme a settantotto su ottanta hanno improvvisamente retrocesso a settantasette sezioni scrutinate su ottanta Allarmati da questo anomalo cambiamento abbiamo subito chiamato il municipio passando, telefonicamente si intende, da un ufficio all'altro Qualcosa non quadrava e di lì la nostra decisione di recarci direttamente in comune a verificare cosa stesse accadendo Al nostro arrivo nessuno vuole parlare con noi, nessuno può parlare con noi Alla ricerca di un segretario generale da un piano all'altro e che non si fa trovare Non riusciamo a vederci chiaro Ci dicono poi che il sito del comune era rimasto bloccato e non aggiornato a causa di un problema tecnico La cosa però non ci convince ma lunedì mattina non c'è modo di avere ulteriori risposte Quelle parole dette da quella detta comunale però non ci fanno ben sperare E abbiamo avuto ragione a dubitare Dunque Tomada, la prima cosa a cui lei ha posto l'attenzione sono proprio questi voti strani Perché? Perché noi abbiamo 136 voti di differenza fra il quartiere e il comune a favore del quartiere Questo è impossibile perché io non posso credere che 136 elettori abbiano rifiutato la scheda del consiglio comunale e abbiano preso solo quella del quartiere Qui c'è qualcosa che non va Lei oltretutto ha detto che in alcuni seggi addirittura le persone che si sono candidate e votate poi non hanno trovato il loro voto Esatto, tre nostri candidati non hanno trovato le preferenze date a se stessi nel loro seggio Quindi questo può essere stato la stanchezza degli scrutatori, possono essere stati tanti motivi ma non va Dubbi li solleva anche Maurizio Puglisi Ghizzi di Casa Pound Da noi intervistato proprio nella giornata di ieri Mi è successo anche a me, non l'ho detto in conferenza stampa Però un professionista di Bolzano, di cui ovviamente non posso fare il nome, è andato a votare Quattro preferenze e voto ex presidente di seggio Dice non le ho ritrovate da nessuna parte È venuto a interessarsi in comune per cercare di capire È stato sballottato da un ufficio all'altro senza avere una risposta chiara Ma il risultato rimane, lui non ha trovato i suoi quattro voti di preferenza E dice casualità, vabbè immagino, dice dei cognomi anche un po' particolari specialmente Perciò non è possibile sbagliarsi Che durante lo spoglio delle schede nella lunga nottata tra domenica e lunedì ci fosse qualcosa che non andava Infatti è stato comunque chiaro fin da subito Abbiamo parlato anche con chi al seggio ci ha lavorato e ci è stato per tutta la notte Aprendo schede, scrivendo nomi, appuntando risultati Sapevamo che ci avremmo messo molto di più del normale, ci hanno raccontato Non mi lamento troppo delle lunghe tempistiche Piuttosto mi vengono dei dubbi sulla reale competenza di certe persone Dopo tanti anni che lavoro ai seggi non ho mai sospettato della limpidità del presidente di seggio, ci raccontano Questa volta ho addirittura pensato che non fosse regolarmente assunto 22 ore di lavoro ci possono stare, ma essere costretti a fare lavori che non ci competono Perché il presidente fa più danni che altro, direi che non va bene Hanno concluso